Come finisce Terra e Mara, la sopa opera in onda con grande successo su canale 5? Le anticipazioni riguardanti le ultime stagioni rivelano che ci sarà spazio per un nuovo amore che avrà come protagonista Zuleya, la quale darà una svolta alla sua vita dopo la morte di Yilmaz. Di Demir, invece, si perderanno misteriosamente le tracce fino ad arrivare al momento in cui si scoprirà la Mara Verità su quanto gli è successo. Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti la sopa opera Terra a Mara, in onda su canale 5, rivelano che le fiamme avvolgeranno la tenuta Yaman, dove all'interno era presente anche Demir, di cui però si perderanno misteriosamente le tracce. Zuleya proverà ad accorrere per capire cosa stia succedendo e si ritroverà a doversi scontrare con Umit. La quale proverà a ucciderla, ma alla fine sarà lei stessa ad avere la peggio. Dato che si ritroverà vittima della brutalità degli uomini di Abdukadir. Ma che fine ha fatto Demir? Gli spoiler sul finale di Terra a Mara rivelano che con il passare del tempo si scoprirà quello che è realmente successo. Il ricco imprenditore non è morto durante l'incendio, bensì è stato assassinato da uno degli uomini di Abdukadir. Il suo corpo è stato poi abbandonato all'interno di un vecchio deposito e verrà ritrovato a distanza di un po' di tempo da alcuni operai, i quali resteranno scossi di fronte al rinvenimento del corpo senza vita di Demir. Grandi novità anche per Zuleya che, dopo aver affrontato la morte di Yilmaz e dopo aver dovuto fare i conti con l'uccisione di suo marito Demir, conoscerà un nuovo uomo che sarà al suo fianco nel corso della quarta stagione finale della soap opera turca. Le anticipazioni su come finisce Terra a Mara su Canale 5, infatti, rivelano che Akan sarà uno dei nuovi azionisti della Yaman Holding. Sotto falso nome, proverà a conquistare la fiducia della protagonista femminile. Col passare del tempo tra Zuleya e Akan il rapporto diventerà sempre più stretto. Al punto che l'uomo dopo aver confessato la sua vera identità alla donna, le chiederà apertamente di sposarlo e di costruire una famiglia insieme. Una nuova vita, quindi, potrebbe iniziare al più presto per la bella Zuleya. Ma ancora una volta il destino le remarà contro. Nel gran finale di sempre della soap opera Terra a Mara, Zuleya e Akan verranno raggiunti dalla perfida Betul. La quale avrà come scopo quello di uccidere la donna, ma in realtà colpirà il nuovo compagno dell'ex moglie di Demir. Per Akan non ci sarà nulla da fare mentre l'assassino si darà alla fuga assieme ad Abdul Qadir. Ma entrambi verranno poi braccati e consegnati nelle mani delle forze dell'ordine. Grazie.